Tragedia nel primo pomeriggio di oggi. Domenica 3 settembre 2023. A Vische. Nella provincia di Torino. Un ragazzo 4 anni e mentre suonava all'interno un terreno agricolo proprietà papà. Per le ragioni durante la valutazione. Si è capito il bambino era bloccato con la testa alla finestra di un ape piaggio che era nelle vicinanze. Causando un infortunio alla base del collo. Avrebbe compiuto 5 anni a novembre. Dopo l'incidente. Il bambino è stato immediatamente salvato dagli 118 operatori sanitari ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. Alla regina Margherita a Torino. Ma durante il trasporto. I carabinieri sono intervenuti sul posto. Che hanno sequestrato il veicolo. Agli ultimi aggiornamenti. Il bambino stava probabilmente cercando di entrare in modo indipendente nel compartimento. Passeggeri del paraggio di suo padre.